Grazie a tutti 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 Ok 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 Ah ecco perchè il club 27 Allora This club 27 The Rockstar dies Janis Joplin Amy Winehouse Come si chiama il chitarrista? Jimi Hendrix Dies with Drugs Alcohol Shot Eccetera E devo fare ancora la storia A Stefano Pioli Sorry No è il fulminato Quello è peggio clip Ah si Bravo La prima pausa Non posso fare Perché il pubblico È un giornalino È stato Organizzato Con gli altri Scampi E Non è possibile Trappare in realtà C'è 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 Senza Allora C'è Che sono Con l'amici Aprile finisco L'arrivo Ok E sto aspettando Saet In realtà Che è Sparito C'è Perchè ragionamenti li ho sempre sul secondo profilo o mai sul terzo, sul collo principale? Perchè ragionamenti li ho sempre sul nostro percorso. Allora, dobbiamo seguire, in Hitman, when you try to kill this, you follow the opportunity to kill. Allora, tic tac, prova scottante, la macchina, intervento, disinfestature, coccolare la clientela, amicizia fulgorante, è qui la festa? Senti, amicizia fulgorante suona bene, è qui la festa anche, però, seguiamo. Bene, si era. Salve, ma mi sa che non è da qua che dobbiamo andare. So, I want to get that package for ways, but the reception says one of our guys picked it up in our account. Ciao, vittà. Ciao, vittà. Ah, questo è. Ah, sì, Tim. Mmm, gustosa questa kill, allora. Comunque, stavo pensando come cazzo fare... Ma toh, ragazzi, ma la maratona, se facessimo che ne so... Eh, ma io devo scaricare Formula 1 2020. Eh, devo capire come fare... Allora, tiene l'accesso alla suite di Jackie, la numero 207. Stai facendo i soldi, eh, con... Eh, ma che... Qua devo stare io. Jackie. Cioè, possiamo ammazzarlo subito, questo? Non ci sto credendo. Ma sei serio? Vabbè, l'attesa aumenta il desiderio. Vabbè, da qua penso sia ristorante, no? Eh, posso andare sopra, no? Ciao, Lape. Mi fai un massaggino, eh? Però me lo devi fare con un happy ending, come sei la bamba. Io sono Stefano Pioli, l'allenatore del Milan. Lape. Sai chi... Io alleno il Milan. Io alleno Zlatan Ibrahimović. Eh, che stai uzzito, d'angolo, faccio ammazzato, ma... Angolo devono Jackie Chan. Poi... Gli punto la pistola in testa, lo devo sparare. Poi le guardi. Facciamo un... C617. Allora... Con che Panzer ho trovato Resident Evil 2 a 14. Io non dico niente. Però... Sfruttiamolo, Cassi 1. Vi state dando tante di quelle... Cioè, se riesco a prenderlo... Schifo, non bascio. Allora... Per andare alla suite... Giustamente... Ah, è più sopra ancora. Andiamo a cercare un'altra scala. Eh, vedi che... Ah, ma poi hai cercato il telefono, lo sai? Posso? Posso? Salve! Eh... Eh, ma stanzi faccio... Deci a volte. Mo, la scheda d'accesso. Toh, cazzo. La poca d'acchi è la scheda d'accesso. Toh, cazzo. Toh, cazzo. Bianchi. Bianchi. Ma ho comprato con altri. Mi sa che prendo Xiaomi Redmi, come quello che ha lei fa più potente. Redmi Note... Va bene, sai. Oh, forse sarò io che abbia trovato il Redmi di merda. Che ti devo dire. Però io mi trovo meglio con Samsung. Tutta la vita. Ma io, ma... Come... C'è questo c'ha... Zurkowski. Nel primo. E crescito nel secondo. Ma la si fa schifo, boh. Sì, però io devo dire grazie che Callon è entrato, almeno prende l'esera. E' necessaria la decisione perché il best bar. Mmm. che s'è la visione. No. 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 Non. 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 Dov'è il microfono? Dov'è il microfono? A spiegher di qua non salvo mai Sì, fai bene, sai Ah, sì Si sentite un rumore strano perché sto facendo Quella è la salsiccia Eh bene, ma non posso rubare i suoi vestiti Ehi, ho capito, ma vengo No, questo è un ruolo Eh? Ma tu, che stai facendo? Adesso Ma... Ma non ho capito, ma voglio dire che è una vasca Ma ancora di te è una vasca Ok Niente boys, il bagno è occupato Quindi vado a cagare duro Comincio con... Hai cagato? Ah, nel frattempo però scorreggio perché non fa mai male Cazzo Ecco Eh, 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 eh Strons Ciao, mamma Questo forse potrebbe essere addirittura più facile di... GG Eh, allora dobbiamo uscire giù per... Ah, dobbiamo salire Sì No, ma non ho capito No, non ho capito No, non ho capito Sì, hai cagato Non ho capito Non ho capito Sì, hai cagato Sì, hai cagato E tu sei con la... A eful Non ho capito Sì, hai cagato Partito Sì, hai cagato Cazzo Mai choose gana Come cazzo salgo io? Ma chi è che mi sta guardando? Che fa... No, la tess Ma la tess Cioè... Ma eh Mi scusi signorina Ma No No, ho sfrasciato malissimo Ho sfrasciato totalmente male Porca puttana se ho sfrasciato Però aspetta vediamo dove possiamo arrivare Vediamo che se è GG No, sta scaricando joystick Mannaggia assai Giovanni Che se si può riparare al don Lo si fa Che vuoi dice Che cazzo ha sciuto Trovano Ma stavo a do Fino a non mutare Eh ma Ma sono comunque ricercato L'ho vestito compromesso Che cazzo ha sciuto Che cazzo ha sciuto E non l'ho uscito Perché ho vestito compromesso Perché ho vestito compromesso Eh ma Ma Che cazzo ha sciuto Ma 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 È Eh la Non Vabbè raga però C'ho una sfiga io. In bagno sta qualche cosa. Cazzo ne sapevo che stavano gli sbirri là. Ma oh. Che sta messa e da. Siccome dovevamo gestirla bene. Che cazzo baste è qualche cosa. Un changement. Niente eh. E' troppo semplice. Ma però se mi sgama la possiamo accoppare e ci prendiamo i suoi vestiti no? E' una mossa ricercata. Ah beh io qualche cosa devo pure. Se viene su uno sbirro. Ma tra snowball. Si aspetta. Ma so troppo. E' inutile. E' inutile Wanyu. Io ho. Ho l'ingegno. Però la salvo qua sta cosa. Ma bene. Vado al bagno. Vado al bagno. Vado al bagno. Vado al bagno. Grazie. 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 Era in bagno. Scusate. Ok. No, vada, non posso entrare. I know, I know, your security, you're cool and all, but I can't believe it. Sorry. Ancora qui su? Oh, ho chiesto. Posso entrare? Madora, vada a pegato. Non so, questo è tranquillo, fra. Ma... E se l'aveva pegato. No, no, no. No, no, no. I don't know. No, 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 no. Come on, I'm sorry. It went. Passa. No, 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 no. No, no, no. No, no. Dove abbiamo visto quelle Queste, quelle Bastic Cazzo, ah Moooo Poi che passa No, no il veleno Se c'è l'acqua il veleno qualcuno Ma era si trova sempre nella partita quando lo vedo E' fatto Don Gistria, ma va a lasciare il daco Eh si, poi c'è qui, buona per i nati E' già mi prendiamo la vestita Vabbè ci deve essere per forza qualche cosa No, eh io la mia occasione suoi gioco No, eh, io la mia occasione suoi gioco No, eh, io la mia occasione suoi gioco Oh Don, non giovi tu bele No, 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 buon, grazie E' un momento E' così che stai dicendo E' un momento E' un momento ...happone again and again... devo prendere veleno su capi mo torno ciappal è miseria per forza il veleno non si può fare niente senza veleno per me da qua non siamo andati zii oh cio ispezioniamo tutto vabbè io ispeziono ma spettacolo però cioè qua non ho le serre vabbè so capi qua è un giardino ma guai però chi ha mandato? che bella Bangkok eh me ne sto andando dai buona pulizia buone pulizia eh me lo so scrivete da cazzissimo da cazzo si esce da sto posto di me ah voglio un pe... mi sono disperso ah ah cosa benino niente non dovrebbero sgamarmi non dovrebbero sgamarmi che bella che bella deve stare qua che bella deve stare qua ma ma che di che sta qua te l'ho visto prima ziii ma il bello è che io il veleno l'avevo visto ma non mi ricordo più dove cazzo sto fai traboccare fai traboccare attiva radio vedi vedi bene che ci serve sarete sveglia cazzo stava qua guagnò beh tanto c'è ma sveglia ci dobbia una mazzata del cortile veleno eh no sto cercando il veleno di gemita ezza merda niente ragazzi buca il veleno quando si trova e le è un peccato quel veleno ci poteva aiutare buonanotte ciao ciao qua sta per forza il veleno vedi che sta qua il veleno vedi che sta qua il veleno è chiaro sta stupere e come cazzo faccio da guagnare quello l'eccesso non sta a dire l'eccesso non sta a dire niente ragazzi niente ragazzi vedo qua sfortunatamente si trova è strada però io mi ricordo davvero visto è strada è strada è strada non vedete la sede è davanti è strada è strada il bar deve avere sempre qualche veleno addosso il bar deve avere sempre qualche veleno addosso sto cercando dappertutto io non posso cioè tu vuoi velenare una persona non puoi farlo ma voi il veleno non ce l'avete è strada è strada è strada è strada è strada vedi avveni la piatta vedi nella piatta è problema devo cazzo eh si lo so lo zee ma lo so perdevuto quindi sto qua Buongiorno Siamo da 50 minuti a cercare un veneno che non troveremo mai Pocomaggio per 4 Magiscopaccio E vabbè, due, sì, ma bene molto È bellino, non c'è Allora, vabbè, vabbè, vabbè Ma c'è da do Allora, che ho bene Allora Il veleno Veleno Allora 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 Abbiamo preso un po' spartucchi, non so che cazzo c'è Oh, qua un veleno deve stare, perché non lo abbiamo visto? Noi quel veleno l'avevamo visto L'avevamo Cazzo visto Eh, se no Scusa, sto facendo una investigazione Ci serve proprio sto cazzo di veleno È inutile Perché quando lo vuoi Non appare mai Però non lo vuoi Vabbè, io non lo vuoi per il veneno post Psicologia o il commento Allora Agiamo Eh, vabbè, agiamo Procurati un travestimento Da membro dello studio Ah Eh, non ce l'avevamo, no Eh, ma quello è compromesso Quindi è un problema Vedi Ah, ma fai da capo Eccola, panzerotto Che mi sento di fottere, oh Ah, bello È bello So dove trovarlo Forza Perché Bello Go, please. Oh, he does it. Go on up. Ok, back to the... Oh? Hey! È compromesso proprio. Ah, non possiamo giocare, Wanyu. Non possiamo. È proprio compromesso il tutto. Eh, Vogue. Sì. Meno male che c'è ancora sto caricamento Eh sì Ormai si è compromesso dappertutto Vabbè li proviamo Alla prossima Che ne si è fatto pure una cazza Eh sì Secondo me Boh è così semplice Brava perché noi avevamo pensato Forse capì No cristo Dai ti prego ne vieni a scassare la mente Alla prossima Where are you? Greetings sir Ok Come cazzo facciano Come cazzo facciano Ok panza No la devo vedere stasera panza scusami Do we have any more of those bronze acoustic strings with the nanocoating line around Uh West bought a Branson MD2? Yep Yep Also known as Old Sparky Almost bankrupted Branson Tech back in the day Yeah well why would West want to use a mic with a notorious production error Farza eh Sesta, godetevi lo spettacolo. Sesta, mi ricorda... Sì, sai cosa diciamo. È molto bello. C'è sicuramente, Wes. C'è più da dove è arrivato. Pronti? Allora, running. È infecchia la bicicletta. Allora proviamo ancora. C'è più caldo. Buongiorno, ragazzi. Un po' di più. Un po' di più. Hai, sei un po' di qualcosa. Un po' di più. Un po' di più. Ah, stiamo parlando. Almost there. No, questo è un po' di più. Non, hai avuto. Hai perduto. Hai perduto. No, ho piaciuto meglio prima. Questo non è. No. Beh. 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 Eccola. Pottis. Un po' di più. Auf O foreanie. Um, mani. Formati pesante. C Ci piangare di questo. Ce nico. Non, vai. Non, è pensato. E dai stavo ballando Ma magari muori Ragazzi Ragazzi Pronti con le clip 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 10 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 7 11 12 12 13 14 15 15 16 16 15 16 16 16 16 Che singolo elettrico ragazzi Ora tocca a Ken Morgan Cosa facciamo a coccolare la clientela o prova scottante? Decidete coccolare la clientela o prova scottante? Eh vabbè 7 è un novanticune si coccolano le persone Andiamo a coccolare la clientela Anche mi è piaciuto un bot La morte E' stata forse una delle morte più facili Del gioco Posso essere onesto Cioè in altri onesto Posso essere onesto Gli altri abbiamo proprio svenato nel farle Bestemmiato Fatto roba E invece qua è proprio Easy Ecco questo mi sta guardando Ok che l'avvocato sta pure qua lo possiamo ammazzare subito ma io solo voglio sapere quindi chi è questo ragazzo? l'unico in tutti i diversi? wow oh scusate signore io sono l'apologizzazione ok hey hey you get the heck out of here mister hai l'amore dei ui ah i'm just doing my job so surrender yourself ah ok tu hai niente ma problemi mi sono andata mi sono andata Mamma mia se ce la siamo scansata così io rido male fino a domani Te l'ho caricata adesso già che le live Ovviamente è stato qua Oh no Oh no Oh no Oh no Ken Morgan Hasn't message come through for me yet Um no No Mr. Morgan No message Yeah man You look tough Respect Pataccia Dio Sia che messaggio Ah ecco Ma andrà preso il gruppo la clip Ma l'altro tu l'avevi caricati se Procurati E se me la vado a buttare a spai A posto Eh vabbè ma come ce la procuriamo Sì Capito? Sì 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 Emma Sì 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 Adi Sì 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 Non ho noto Non ho mai Hmm, ok. ah che palle ho sfrasciato tutto ah per fortuna che ci hai salvato oggi nella tua madre ma vado a buttare in bondizia no 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 tutto ciò che ti senti dubbio, è un po' di nole. Sì, non è vero che la mia madre e la mia moglie di fare con questo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ma per forza di questo e come cazzo faccio non è possibile Grazie a tutti. Grazie a tutti. In the basement. Someone guard the stairs. Dispatch, please acknowledge. Put it another way, where the hell is everybody? Wake up, act like you give a shit. Okay, thanks. Ah! Jesus Christ. Where the hell did he go? Nope. Just relax, all right? What's going on? So, do you know who it is? It's a promise ormai. Okay, let's take care. What the hell do I have to do? Well, honestly, I'm talking. What the hell do I have to do? Sì, è vero che non si tratta di un cazzo come un cazzo di ghiere. Che cosa stai qui? Che cosa stai? 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 Si! He's by the service entrance! Whoa, ah-ha! What the atmosphere... And usurpy the delivery entrance! Ah, dammit! Big, all you got! By the delivery entrance! Oh, somebody help me! No but... Wait, I'm not focused on that. Mi sta salendo un nervoso assurdo Questa è la colpa più difficile E ora tu mi devi spiegare Io come faccio a prendere La divisa di quello E' impossibile zi E' veramente impossibile Ma comunque non ha detto Quella C'è la divisa può essere anche un'altra divisa C'è non per forza quella Tipo se prendiamo sta divisa è più facile Sì fra ma E' proprio bene come cazzo la dobbiamo prendere Ci fosse uno stratagemma Un qualcosa E' una bella morte da Gesù Scusate però mi scappa Ogni tanto E' non so capire Ci cazzo E' da danno sbocci Da danno sbocci Pensa 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 Come possiamo prendere Ma la valla 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 hey please look where you're going no eh ma sei 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 il tuo cinema però ma tu vuoi ridere la soluzione più facile forse cala che non prende forza quella era difesa ma come sta faccio è massimo di fatto o penso che cazzo proviamo io provo se si trova ministra da gemmi non è passato ma ci fare 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 C'è bene 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 Sottotitoli per l'escrizione! ... ... ... ... ... ... ... I ... I See there a smear as expected Buongiorno a tutti. No, no, no. Covered in dust. I dare say this so-called cleaning was rather superficial, wasn't it? I don't know. A sudacan. Oh, get rid of that. Everything seems to be in order here. Excellently done, 47. Let's make Morgan feel right at home. Oh, calcium stains. Why am I not surprised? You know what to do. Now, the scene of the crime. Ground Zero. Let's take a closer look, shall we? Both targets down. Now head towards an exit. I don't know. It's a social media. It's a social media. Yeah, it's a social media. No, no, no. No, no, no. Oh, no. I don't like to have any idea of that. Not as a social media organization. I don't like to have any idea of it. no cazzo no setta è peggio dappertutto fidati mi sa che sono andato a dormire no addio questo è stato abbastanza oddio deve essere che è stato mercato vabbè poi li recupero è quella che fanno pure qua certo? questo non era una coincidenza non per una lunga scuola Thomas Cross ha avuto milioni di conti di off-shore tutti secchiati dentro di ore della scuola qualcuno voleva il figlio morto ha avuto il figlio qualcuno abbastanza per rimanere nella scuola mentre abbiamo fatto la scuola e i primors hanno prenduto la scuola una scuola una scuola qualcuno è riuscita il contratto è giusto questo è stato un problema sai che non importa la politica 47 ma l'ICA è neutra come si è stato non c'è non c'è quello che ha fatto è stata fatto Italia Morocco Paris tutti i nostri clienti hanno il modo di trattare la stessa le informazioni di una fricula di un'occhiata Il contratto è perfettamente legittimo, ma parte di un design più grande. Non vedo il patente. Alcune lo so. Il board ha chiesto di chiedere a questo cliente di shadow, e i nostri analisti stanno chiedendo in mentre parliamo. Lo so. Lo so, Tone. Alcune è giocato un gioco, 47. La questione è, il gioco a chi? Ma se feia, sparisce il padre, pieno di soldi. Predammento penso. La questione è, il gioco a chi? Allora, ho avuto una colpa di ragazzi bianchi, ho picchiato un prete. c'è un prete ma non sono veramente chi è disciplinato posso capire che sono sul cazzone di giorno ma non puoi picchiare un pietro che sapere senti qua una volta hanno picchiato non so chi però hanno picchiato un botto di persone si aveva letto penso è un attimo c'è c'è appo appo allora colorado parliamo okkaido chiediti facciamo l'ultima poi la prossima volta finiamo destiny sono colo che cazzà un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti